questo è il gioco dei quattro cantoni è un gioco che sembra abbastanza tranquillo in realtà è super dinamico e di strategia perché lo spazio è piccolo e riuscire a cambiarsi di posto senza che quello al centro te lo freghi e di contro quello al centro deve riuscire a capire chi si muove quale angolo puntare no ci vuole un minimo di pensiero è molto divertente se fatto con un po di dinamica io da piccolo lo facevo tantissimo questo grazie a tutti